. Cannagate all'isola dei famosi 2018, Avenger, vi svelo i nomi di chissà età c'è. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Avenger ha fatto i nomi degli otto naufraghi che, a suo dire, sarebbero stati presenti mentre lei denunciava al capo progetto Andrea Marchi la presunta presenza di marijuana nella casa in cui alloggiavano. Avenger non si arrende. Lasciò gir la intenzione di arrivare fino in fondo al Cannagate scoppiato all'isola dei famosi 2018. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha fatto i nomi dei naufraghi, che, a suo dire, sarebbero stati presenti mentre lei sollevava il problema della marijuana davanti al capo progetto Andrea Marchi. . . In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha fatto i nomi dei naufraghi, che, a suo dire, sarebbero stati presenti mentre lei sollevava il problema della marijuana davanti al capo progetto Andrea Marchi. . 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